Esistono nella storia della letteratura opere che non possiamo non aver letto e una di queste è Il Rosso e il Nero di Stendhal. Con questo breve video spero di farvi venire voglia di leggerlo. Io non l'ho mai letto, ma lo leggerò sicuramente. Allora, video strutturato sempre nello stesso modo, quindi due parole sull'opera, due parole sull'autore, poi l'incipit e alcune citazioni. Iniziamo. Allora, Il Rosso e il Nero, pubblicato nel 1830, è il secondo romanzo dello scrittore francese Marie-Henri Bale, universamente noto come Stendhal. L'opera prende spunto dall'affaire Bertè, un fatto di cronaca che racconta del figlio di un maniscalco condannato a morte per aver assassinato l'amante, moglie di un notaio di provincia del dipartimento dell'Isère, nella parte sudorientale della Francia. Il Rosso e il Nero è un romanzo realistico, in cui l'autore sviluppa e arricchisce un episodio in cui osserva il manifestarsi di un'energia popolare che la società conservatrice della restaurazione reprime. Siamo infatti nel periodo appena antecedente alla rivoluzione del 1830, in una società in cui si acquiscono sempre più i contrasti tra Parigi e la provincia, tra borghesia e nobiltà, tra gesuiti e giansenisti. Ecco, ricordiamo velocemente che, secondo i giansenisti, gli esseri umani nascono essenzialmente corrotti e inclini a peccare, ma solo alcuni sono predestinati alla salvezza per mezzo della grazia divina, mentre altri non lo sono. Allora, con il Rosso e il Nero, Stendhal traccia un affresco della società reazionaria post-napoleonica, mettendo in luce le ambizioni, il cinismo e l'ipocrisia di cui si nutrono quotidianamente i rapporti umani. Per la sua capacità di rendere gli aspetti psicologici dei personaggi, il Rosso e il Nero è considerato un romanzo psicologico. E lo stesso Nietzsche definirà Stendhal come l'ultimo dei grandi psicologi francesi. Allora, il simbolismo contenuto nei colori del titolo, quindi rosso e nero, ci aiuta a comprendere i significati multipli del romanzo. Allora, il Rosso evoca il sangue del crimine, la passione, che si lega quindi al Nero del dolore e della morte. Nero, però, è anche il colore dei vestiti da seminarista del protagonista Julien Sorel, mentre il Rosso è il colore degli abiti dei militari, carriera eroica, verso cui Julien cova un'ambizione segreta, ma che non potrà seguire. Un'altra interpretazione dei due colori è il rosso della rivoluzione francese, che troviamo nel tricolore, oppure nel sangue versato sulla ghigliottina, e il Nero della restaurazione a essa succeduta. nuovamente Nero è appunto il colore delle tonache dei preti. La tragedia del protagonista è proprio quella di essere nato troppo tardi, in un momento in cui a un giovane ambizioso e intraprendente, ma di origini plede, si aprono pochissime prospettive di affermazione sociale. Bene, passiamo all'autore. Allora Marie-Henri Bale, noto come Stendhal, nasce a Grenoble il 23 gennaio del 1783, e muore a Parigi il 23 marzo del 1842. È stato uno scrittore francese, i cui romanzi, volti alla ricerca della verità psicologica dei personaggi, ne fanno uno dei maggiori rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo. I suoi protagonisti sono giovani romantici e appassionati, spinti da un forte desiderio di gloria. Grande amante dell'arte, Stendhal vivrà a lungo in Italia, dove nel 1817 pubblica due opere, la prima intitolata Storia della pittura in Italia, e la seconda Roma-Napoli-Firenze nel 1817, e si tratta di un libro di ricordi e di impressioni sul periodo vissuto dall'autore nelle tre città. Quest'ultimo libro viene firmato per la prima volta con lo pseudonimo di Stendhal, probabilmente ispirato alla città tedesca di Stendhal, quindi senza l'H, dove era nato l'ammirato storico e critico d'arte Johann Joachim Winkelmann. Molto bene l'incipit adesso, e poi le citazioni. La città di Verrières può dirsi una delle più graziose della Franche-Comté. Le sue bianche case dai teti di tegole rosse sorgono sul fianco di una collina boscosa ai cui piedi scorre il dù. L'alta montagna che la protegge da nord fa parte del sistema del giura. Citazioni A Parigi la condizione di Julien di fronte alla signora Reynal sarebbe in breve divenuta molto semplice, ma a Parigi l'amore è figlio dei romanzi. Un'altra L'amore cerebrale ha certo più spirito che l'amore vero, ma ha solo alcuni momenti di entusiasmo. Conosce troppo sé medesimo, si giudica continuamente. Lungi dal liberarci dal pensiero, non è esso stesso costruito d'altro che di pensieri. Molto bella questa secondo me. L'amore cerebrale versus l'amore quindi passionale. Quindi l'amore cerebrale che ragiona troppo su se stesso, quindi conosce troppo se stesso, quindi diciamo lascia poco così al mistero, all'inverginezione. Bella. Molto bella anche la successiva. Un romanzo è uno specchio che passa per una via maestra e ora riflette al vostro occhio l'azzurro dei cieli ora il fango dei pantani. E l'uomo che lo porta, scusate, e l'uomo che porta lo specchio nella sua gerla sarà da voi accusato d'essere immorale. Lo specchio mostra il fango e voi accusate lo specchio. Accusate piuttosto la strada in cui è il pantano e più ancora l'ispettore stradale che lascia ristagnare l'acqua e informarsi di pozze. Molto vera questa frase, è sempre molto attuale, come appunto vediamo ultimamente nel dibattito politico, ma forse così, molto probabilmente così è sempre stato appunto politici, imprenditori che accusano i giornalisti per riportare notizie scomode e viceversa. Quindi diciamo che si tende a accusare chi dà la notizia piuttosto che pensare a quello che la notizia rappresenta. Diciamo così in linea di massimo, non è sempre vero, non voglio fare alcun riverimento politico troppo preciso, non essendo io appunto persone di parte. Ma andiamo avanti. La vita di un uomo era un seguito di pericoli. Ora la civiltà ha cacciato il pericolo, non c'è più imprevisto. Se dell'imprevisto appare nei pensieri, non si hanno abbastanza epigrammi contro di esso. Se appare negli avvenimenti, nessuna vigliaccheria è più bassa della nostra paura. Qualunque follia la paura ci faccia commettere è scusata. secolo degenerato e noioso. Era in quello stato di stupore e di turbamento inquieto in cui piomba l'anima che ha appena ottenuto ciò che ha desiderato a lungo. Abituata a desiderare, non trova più niente da desiderare, mentre non ha ancora dei ricordi. L'aria malinconica non è di buon gusto. Ecco, scusate se mi interrogo con questa... Secondo me è molto bella. Riparto. L'aria malinconica non è di buon gusto. Ci vuole l'aria annoiata. Se siete malinconico è segno che qualcosa vi manca, che non siete riuscito in qualche cosa. È un segno manifesto di inferiorità. Invece se siete annoiato è inferiore ciò che ha cercato vanamente di piacervi. L'ultima. No. Le persone che il mondo onora non sono che delle canaglie che hanno avuto la fortuna di non essere colte in flagrante. Bene, molto interessante quest'ultima. Non sempre vera, ma spesso sì, secondo me. Bene, questo è tutto per questo episodio di Non Pugnò Saperlo dedicato a Il Rosso e il Nero di Stendhal. Come accennato, spero con questo video di avervi fatto venire voglia di leggerlo. E il video termina qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e alla prossima.